L'AIDS potrebbe essere debellato entro il 2030 se i leader mondiali aumentassero le risorse e salvaguardassero i diritti umani. È quanto afferma un nuovo rapporto dell'ONU. Secondo un AIDS, il momento è critico perché i leader possono decidere se rispettare l'impegno di porre fine all'AIDS entro il 2030. L'appello è particolarmente sentito in vista della conferenza mondiale che si terrà quest'anno in Germania. L'obiettivo dell'evento è quello di fornire informazioni attraverso incontri, conferenze e stand informativi aprendo discussioni su argomenti rilevanti legati all'AIDS e dando maggiore visibilità alle istanze dei pazienti. Su quasi 40 milioni di persone che vivono con l'HIV in tutto il mondo, quasi un quarto non riceve cure e salvavita. Ciò significa che ogni minuto muore una persona per cause legate all'AIDS. Il nuovo rapporto delle Nazioni Unite mostra che le decisioni prese quest'anno determineranno il raggiungimento degli obiettivi globali e la fine dell'AIDS come minaccia per la salute pubblica entro il 2030. Se i decisori politici intraprendono adesso azioni coraggiose per garantire risorse sufficienti e sostenibili per combattere la malattia, il numero di persone che vivono con l'HIV e che necessitano di cure si assesterà a circa 29 milioni entro il 2050.